Bella a tutti ragazzi, qua Argasmi che sono qui con un nuovo episodio delle bestie nascoste e vi invito subito a lasciare un bel mi piace perché bestie nascoste è la serie con cui diciamo io faccio più fatica a registrare, è la serie un po' più impegnativa da registrare per cui vi invito a lasciare un bel mi piace, vediamo se riusciamo ad arrivare speriamo a 400 mi piace così uscirà subito un nuovo episodio Allora parliamo subito dei giocatori di oggi che sono tre giocatori molto molto buoni che vi voglio proporre il primo è senza dubbio Andrea Raimondi, andiamoci a vedere qualche clip di Raimondi è un attaccante bronzo velocissimo come potete vedere dalla carta e dotato di un buon tiro, 61 di tiro per un giocatore bronzo è decisamente buono lui sostanzialmente ha solo quella caratteristica oltre al tiro, la velocità la sua caratteristica è migliore infatti è la velocità dove potete prendere il pallone partire da qualsiasi posizione, lui non la perde mai perché oltretutto oltre alla velocità ha anche un ottimo controllo palla per essere un giocatore bronzo e questo rende questo giocatore davvero bestiale perché davvero è qualcosa di indescrivibile guardate qui era partito da tipo la tre quarti, cioè dalla mediana e si è fatto tutto campo e poi ha fatto l'assist per il gol veramente un giocatore formidabile per gli standard ovviamente di ultimate team dove serve solo ed esclusivamente velocità forza fisica conta relativamente poco visto che lui ha circa sui 40-50 di forza fisica ma in ogni caso riuscite a giocare benissimo questo giocatore vi obbligo a provarlo perché davvero è uno dei giocatori bronzo più forti che abbia mai provato quest'anno ha un buon tiro, ha anche una buona potenza tiro per essere un giocatore bronzo quindi davvero davvero binomio velocità tiro davvero mostruoso peccato che ha solamente, cioè ha un work rate medio medio se avesse alto d'attacco sarebbe ancora più forte e poi ha tre stelle piededebole e tre stelle abilità che non sono male, le tre stelle abilità van bene le stelle piededebole sembrano quattro perché di sinistro mi ha fatto diversi gol e quindi secondo me possono tranquillamente sembrare quattro stelle abilità in ogni caso un giocatore che costa un tantino però li vale assolutamente mentre adesso passiamo al giocatore argento stiamo parlando di José Valencia vediamoci subito qualche clip di Valencia è secondo me il Silver Ibarbo perché le statistiche un po' lo ricordano a parte il fatto che non ha quattro stelle abilità ne ha solamente tre è un ottimo giocatore dotato di una velocità incredibile e nient'altro, diciamo così la velocità è la statistica più importante sicuramente per lui ma quella che si nota di più perché non ha un buonissimo tiro oddio, ha un discreto tiro ma non buonissimo pecca un po' di finalizzazione a dir la verità anche Ibarbo nelle statistiche non ha tantissima finalizzazione però Ibarbo è Ibarbo però lui si avvicina tranquillamente dicevo, velocità altissima contropiedi sono veramente letali con lui davanti alla porta segna diciamo 7 volte su 10 è gol però ci sono anche quei casi in cui non fa gol perché la finalizzazione non è altissima e poi non ha neanche una potenza tiro esagerata quindi delle volte non fa gol però solo delle volte io vi consiglio di utilizzare questo giocatore in attacco a 2 l'ho provato sia in attacco a 1 che in attacco a 2 ma mi ha reso molto meglio in attacco a 2 poi vabbè ovviamente vi lascio le squadre in descrizione così le potete un po' consultare l'ho pagato tantissimo tipo 7000 crediti perché in quel momento era stato price fixato perché era stato utilizzato da un penso uno youtuber importante però adesso si trova tranquillamente sui 500 crediti giù di lì mentre adesso ragazzi passiamo al giocatore oro stiamo parlando di Ibai Gomez ci vediamo qualche clip è un giocatore secondo me molto molto sottovalutato lo è sempre stato forse nella storia di FIFA ma è un ottimissimo giocatore adesso elenchiamo un po' le sue statistiche migliori allora se voi siete dei giocatori cioè dei player che utilizzano solamente la velocità questo giocatore forse non fa per voi questo giocatore deve essere un po' saputo bisogna saperlo un po' utilizzare perché non essendo velocissimo cioè ha comunque un circa 80 di velocità quindi è comunque molto buona come velocità però se siete abituati a utilizzare giocatori con 90 di velocità o più come diciamo il 75% forse di più dei giocatori di FIFA Ultimate Team forse non fa per voi però comunque sia e comunque potete provarlo perché costa 400 crediti quindi tranquillamente è utilizzato come ATD in un 4-3-2-1 mi ha reso veramente benissimo faceva tanti inserimenti con su work rate alto d'attacco le caratteristiche migliori sono sicuramente l'agilità il controllo pall il dribbling che sono veramente altissimi peccato che non ha 4-7 l'abilità e questo lo penalizza tantissimo poi ha un tiro che è eccezionale un'ottima filenizzazione per essere un'ala più dell'80 quindi è tantissimo per un'ala ma soprattutto un long shot veramente pauroso batte anche le punizioni molto bene purtroppo non sono riuscita a segnare fa come dicevo dei long shot veramente bellissimi veramente da qualsiasi posizione fa dei long shot molto belli ha anche una buona potenza tiro quindi è molto forte una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il suo senso della posizione davvero fa gol come un attaccante di razza questi sono i tre giocatori che vi ho portato oggi io spero che vi possano piacere spero che li proviate perché davvero meritano tantissimo soprattutto Raimondi è qualcosa di eccezionale vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace come ho detto all'inizio video e a scrivermi nei commenti come ogni episodio come state facendo sempre a consigliarmi altri giocatori che io li proverò e se saranno veramente delle bestie nascoste assolutamente li porterò in qualche video vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook, twitter, instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella raga